Proseguono gli incontri nei centri della Valle del Volturno per dire no all'inquinamento ambientale, per chiedere non solo di bloccare l'accordo per smaltire i rifiuti abruzzesi molise, ma anche per ribadire che gli inceneritori andrebbero proprio dismessi per ridare tranquillità a una popolazione sempre più preoccupata dall'aumento di malattie, a partire da quelle tumorali. Dopo la manifestazione dei trattori, riflettori puntati nuovamente su Pozzilli, dove il Comitato contro le Camorre ha organizzato un sit-in in piazza per chiedere all'amministrazione comunale di prendere posizione contro le attività di incenerimento. Credo che vada puntualizzato, che c'è un'amministrazione locale, con un sindaco, una sindachessa, come dir si voglia, che rispetto a questo problema sta facendo spalluccia, anzi, sta facendo accordi con l'amministrazione dell'ERA. La dicono lungo anche questi progetti ambientali. L'ERA che vuole insegnare l'attività ambientale ai ragazzi, anche la convindustria, ha fatto, come dire, accordi con il MIUR per fare dei progetti sempre sull'ambiente. È impossibile. Noi denunciamo pubblicamente l'attività di questa amministrazione che dovrebbe essere la prima a non permettere su questo territorio l'ingenerimento. Perché altrove questi ingeneritori non hanno più motivo di esistere, altrove dove ancora ci sono non sono certamente vicino ai centri abitati, altrove le comunità locali si sono ribellate e li hanno fatto chiudere. Nei prossimi giorni sono previste nuove iniziative sul fronte della lotta all'inquinamento ambientale nella piana di Venafro. A breve ci sarà anche un nuovo incontro con il prefetto di Sernia, Fernando Guida. Noi continueremo imperteriti, stiamo aspettando che il prefetto ci convocchi per fare un tavolo. Rispetto a quel tavolo noi chiederemo la chiusura immediata di questo contenitore di morte, perché ce lo chiede la gente, perché ce lo chiedono anche i morti e ce lo chiederanno anche le future generazioni se ci arriveranno.